Ciao, eccoci qua per le nostre classifiche di fine anno, ovvero sia dei titoli che ho giocato per la prima volta che mi sono piaciuti di più all'interno dell'anno 2023. Partiamo con la classifica dedicata ai giochi di ruolo. Stavolta ho selezionato ben 6 giochi di ruolo più 1 adatto ai più piccoli. Per darvi qualche numero, quest'anno sono riuscito a intavolare 21 titoli di ruolo diversi fra di loro per un totale di 59 sessioni. Inoltre ho partecipato anche per la prima volta ad un LARP, ovvero sia a Creators Fair tenuto a Torino da Roger Fred Serra. Direi quindi che senza indugi possiamo partire dalla posizione numero 6, che vede classificato questo Zampotecaria, titolo per un giocatore di Blackwell Tyrell edito da Nessun Dove Dreamlord Press. In questo gioco saremo dei pestapoltiglia, ovvero sia degli animali che devono andare a curare altri animali. Avremo quindi un percorso da fare, un viaggio, avremo una fantastica mappa e questo sarà un po' il nostro manuale di medicina. Quindi sì, ci sono le regole del gioco, ma sostanzialmente ci spiegherà come provare a curare gli animali che troveremo malati. Il gioco stesso ci permetterà di fare degli incontri, trovare delle malattie molto particolari e ogni malattia ha dei particolari componenti che devono essere recuperati per fare il medicinale corretto. Alcuni possono fisicamente curare il corpo del malato, altri possono aiutarlo per altre cose, magari per farlo sentire meno a disagio oppure per tirargli sul morale. Insomma potrebbe essere anche un malanno del tipo una tristezza perché ha perso un suo caro. Nel corso quindi della nostra avventura dovremo cercare di aggirarci nei dintorni e cercare di raccogliere questi elementi curativi, oppure scambiarli, oppure barattarli, oppure comprarli. Avremo a fianco noi un nostro piccolo animale di compagnia, in sostanza che ci accompagnerà nelle avventure e pian piano potremo guadagnare sempre più reputazione. Chiaramente ci saranno dei luoghi dove sarà più facile recuperare alcuni ingredienti, luoghi in cui sarà più difficile recuperare ingredienti. Ma la cosa interessantissima è come è strutturato questo manuale, perché davvero scegliete la malattia, diciamo, una volta che l'avete identificata avrete i vari ingredienti. Di ogni ingrediente potete vedere precisamente dove può essere reperito più facilmente, più difficilmente, così potete spostarvi. Dopodiché vedete tutte le varie combinazioni e avete anche un sacco di eventi che possono capitare. La mappa è davvero sterminata e quindi il vostro viaggio può davvero scegliere da A e B e fare un percorso corto, più lungo, lunghissimo. Potrete giocare a singola avventura, diciamo così, singolo viaggio, o portare avanti la vostra gilda, cercare di recuperare sempre più performance anche per la vostra gilda. Insomma, è davvero un qualcosa che potete giocare con calma, come se fosse un journal in game, ma con un sentore di avventura. E vi dico che mi è piaciuto tantissimo avere la sensazione di diventare sempre più bravo nel riconoscere le malattie, nel curarle, avere delle soluzioni, oppure cominciare a dire, ah, potrei trovare delle alternative a questo, insomma, cominciare proprio a pensare come un pesta a poltiglia. Secondo me questo manuale rende molto bene l'idea ed è facilissimo da consultare. In posizione numero 5 vediamo questo Little Caties Tea Party, un gioco di Enuclear Manatee per 3-5 giocatori ed editato da Grampy Bear. In questo titolo dovremo davvero partecipare a un tea party, o meglio organizzarlo, perché dovremo fisicamente avere delle tazze, riempirle di tè o altra bevanda, insomma, che ci può piacere, del tipo caldo per fare una chiacchiera insieme, e queste tazze diventeranno uno strumento, un materiale necessario per far funzionare le meccaniche del gioco. In questo gioco saremo gli amici di infanzia di Katie, amici che potrebbero essere dei giocattoli o comunque delle cose che ha utilizzato nell'infanzia, diciamo pupazzi, bambole, qualcosa di simile, che in qualche modo prendono vita tra di loro, quindi non hanno mai effettivamente parlato con Katie, e che vanno un po' a riguardare tutto quello che è stato il passato insieme a questa bambina. Chiaramente potete scegliere il tipo di ambientazione, il tipo di difficoltà superate, il tipo di cose che ha dovuto superare e come le avete dovute superare, quindi piegare moltissimo la vostra ambientazione, ma la sostanza è questa. Voi riguardate indietro e cercate di capire quanto effettivamente avete aiutato la bambina. Attenzione, qua c'è una doppia particolarità, nel senso che effettivamente voi raccontate come se avete imbracciato la spada, avete sconfitto il nemico, ma la realtà, diciamo, guardandola con gli occhi dei giocatori, invece è sempre Katie che si è salvata. Voi non avevate niente di magico, avete questa magia del poter parlare fra di voi, ma nel mondo degli umani siete effettivamente dei giocattoli e basta. Quindi Katie ce l'ha fatta da solo, non è la principessa in difficoltà che deve essere salvata, ma voi in qualche modo l'avete aiutata, anche solo con il conforto, di cercare di farle vedere realmente cosa è la realtà, qualcosa che la spaventava, potevate decidere di raccontarle la verità, oppure diventare dei mostri. Sacrificare parte della vostra giocattolosità, ok, ho scelto una parola difficilissima da pronunciare, per cercare di aiutarla, quindi rinunciare magari un orsetto a un occhio, oppure una bambola ad un'arte, quindi diventare più brutti agli occhi di Katie, che avrà avuto paura di voi da quel momento in poi, ma voi l'avete aiutata a superare, a diventare grande. E quindi vi ritrovate dopo anni a vedere come l'avete cresciuta e se il sacrificio ne è valsa la pena. Come vi dicevo, il bere il tè vi serve innanzitutto per rilassarvi, per trovarvi intorno al tavolo e parlare insieme in maniera rilassata, ma se non volete rispondere, o comunque quando c'è da risolvere il problema c'è una sorta di percorso da affrontare, il bere significa non voglio rispondere, non è il momento, non mi sono trovato a mio agio. E quindi il non parlare, ma il bere, fa parte fisicamente della meccanica di gioco, ed è una cosa davvero innovativa e la trovo anche introspettiva contestualmente. La cosa particolare è che si è sempre tutti in scena, perché uno inscenerà in qualche modo la difficoltà, uno dovrà essere l'amico, l'altro dovrà essere il contraltare, insomma, secondo il numero di giocatori salirete di ruoli, ma tutti quanti saranno sempre protagonisti della scena. Molto buono questo Little Cat is the Party. In posizione numero 4 troviamo questo L'estate dei sonnamboli di Davide Ragona, per 2-4 giocatori ed edito tramite la piattaforma Itch.io. In questo gioco innanzitutto ciascuno dei giocatori sarà un ragazzino degli anni 90. Ognuno di essi è abbinato a un diverso seme delle carte da gioco, quindi quadri, cuori, fiori e picche. E vanno a vivere l'estate della quinta superiore, prima università per chi ci andrà, o comunque dopo che sono state terminate le superiori. Quindi l'estate in qualche modo più bella, quella dove non ci sono reali pensieri, dove ci si può davvero sentire liberi, si può stare insieme agli amici. Che cosa succederà? Succederanno varie situazioni, quindi da qualcosa che li metterà nei guai a qualcosa che invece li legherà, ma la cosa interessante è che la meccanica di fondo chiederà sempre di essere onesti ai giocatori. Bisognerà cercare di dire sempre la verità. Ma che cosa succede? Ogni volta che c'è una domanda seria, quindi quando viene creata la scena a partire da un titoletto, l'autore ha preparato un bel po' di titoletti, voi ne scegliete uno a caso, e in qualche modo potete piegarlo per cercare di raccontare la scena che vorrete fare. Non c'è un master, a turno ognuno crea questa scena. Dovete immaginarvi come in una graphic novel, come se fossero vari capitoli di questo slice of life. Il narratore prepara la scena, mette in scena tutti i ragazzini e si parla liberamente, eventualmente utilizzando anche dei personaggi esterni. Ma a un certo punto ci può essere una domanda seria, uno dei ragazzini pone un altro una vera domanda seria. Si parte con il giocatore che dà la risposta vera e propria, che dovrebbe dare il suo personaggio nella realtà come se non dicesse una bugia, e poi si estrae una carta. Se la carta estratta è corretta, allora davvero viene raccontata la verità agli altri amici e questo potrà stringere dei legami, sarà molto bello anche trovare delle cose che non ci aspettiamo da quel personaggio, che davvero è un qualcosa che magari ci fa anche star male, perché ci sentiremo più vicini. Ma se la carta estratta non è quella che abbiamo dichiarato, allora bisognerà per forza di cose mentire. E vi assicuro che se all'inizio potrebbe piacervi mentire, insomma potete fare magari il bulletto, quello che un po' racconta anche cose, che le spara grosse, dopo un po' vi spiacerà dover mentire agli altri, perché sì, i giocatori sapranno qual è la verità, ma i personaggi all'interno dell'avventura magari si beccano una parolaccia, uno spintone, ah, lasciami stare, tanto questa cosa qui non mi interessa, è una cosa da piccoli, ma dentro ci sarà un qualcosa. Sentirete davvero nascere dentro di voi sentimenti strani, toccherete tematiche come il bullismo, come l'abbandono, come la depressione in qualche modo, quindi fate attenzione perché escono delle cose molto forti. Altra particolarità è che se esce dall'estrazione una figura, la scena si interrompe bruscamente perché arriva un adulto, a seconda della figura succederanno cose diverse, e la scena si interrompe, quindi non c'è effettivamente la risposta, quindi noi sappiamo come giocatori che cosa si sarebbe risposto, ma i personaggi non lo sapranno mai, quindi una meccanica da un certo punto di vista molto semplice, molto snella, si parte da un titoletto che a volte sono anche molto buffi, in qualche modo anche boh, scansonati, ma che rende una profondità davvero esagerata. Mi è piaciuto molto questo estate dei sonnambuli. Arriviamo sul podio, in posizione numero 3 troviamo l'ultima torcia, questo gioco di ruolo fantasy di Matteo Curtecortini e Leonardo Moro Moretti per due sette giocatori edito da Serpentarium. Allora qua ci troviamo di fronte a un vero e proprio gioco di ruolo come ce lo possiamo immaginare, con delle statistiche, con dei personaggi che devono andare a fare la loro missione e in qualche modo menare anche le mani, ma attenzione, è molto diverso da quello che vi aspettate. Qua i personaggi sono eroi non perché hanno delle capacità sovrumane, semplicemente sono eroi perché sanno che con le loro poche capacità perché sono degli esseri umani e davvero se prendono una badilata in faccia vanno per terra perché un essere umano se prende una badilata in faccia magari alla sprovvista non può in qualche modo sopravvivere, cioè magari non muore del tutto ma davvero è messo male, ma cercano comunque di portare a termine le imprese, cercheranno comunque di far qualcosa di valoroso, non necessariamente di buono, a volte il buono può essere anche solo portare a casa la pelle, raccimolare qualche fiorino per portare avanti la propria compagnia di avventurieri. Ma davvero è un mondo davvero ostile ma nonostante sia fantasy, nonostante ci sia la magia, lo percepirete come molto reale e molto vivo. Questo gioco mi ha colpito molto perché è semplicissimo da riuscire ad apprendere per giocare. Innanzitutto dal punto di vista del master perché il master serve a raccontare la storia, a innescare tutto quello che possono fare i giocatori, a ricordare sicuramente le regole, ma poi per esempio il combattimento è retto da una procedura quindi non ci sarà bisogno che il master riesca a creare una sorta di combattimento, favorire o sfavorire gli eroi. Si combatte tramite una procedura e il tiro di dado sarà violentissimo e quindi i dadi addirittura vengono lanciati davanti allo schermo se un giocatore non ce la fa semplicemente sarà stato il dado a comandare. La cosa interessantissima è che ci mettete due minuti, ma no, due minuti no, facciamo cinque minuti a creare un nuovo personaggio e quindi siete pronti a rientrare nell'avventura. Quindi magari il vostro personaggio purtroppo esce di scena ma riesce a essere rimpiazzato da qualcuno di nuovo e quindi riprenderete l'avventura con qualcuno di davvero unico. Cosa intrigante è che i personaggi appunto possono livellare perché guadagneranno esperienza nel corso delle loro avventure ma non riusciranno mai a ottenere, che so, più punti vita o più capacità offensive. Avranno più abilità, quindi potranno fare delle cose in più, ma dovrete sempre cercare di ragionare fuori dalla convenzione del vado avanti a testa bassa e mi meno. Interessante anche come l'ambiente intorno a voi vi darà delle informazioni. Ad esempio, se vedete qualcuno che gira in armatura, caspita le armature costano talmente tanto che davvero fate attenzione a dargli fastidio perché quell'armatura sarà molto forte e quella persona sarà una persona che davvero è capace di combattere. Quindi non mettetevi contro uno che sembra davvero un nobile perché potrebbe essere molto male. Così come se qualcuno porta delle armi molto particolari o comunque lo vedete in qualche modo con dei segni particolari di qualche gilda, fate attenzione perché anche in quel caso può essere molto pericoloso mettersi contro queste persone. Insomma, sappiate che non potete fare il bello e il brutto tempo perché qua è il mondo che vi rimetterà al vostro posto. Mi è piaciuto molto quest'ultima torcia, mi è capitato anche di scrivere delle microavventure, si presta tantissimo sia alle campagne che alle one shot, come vi dicevo. Potete giocare il tutorialino per imparare a giocare e vi prende mezz'ora in tutto tra spiegare le cose che ci sono scritte proprio come regole e iniziare a giocare e le avventure le chiudete tranquillamente se prendete quelle già scritte nel manuale anche non due, massimo tre ore in una serata. Quindi prendetevela comoda se volete qualcosa di immediato da giocare, immediato da spiegare, ma attenzione, comunque epico dal punto di vista che se ce la fate davvero vi sentirete soddisfatti quest'ultima torcia può fare davvero al caso vostro. In posizione numero due con un ritmo completamente diverso troviamo questo rosso di sera. Gioco di Kamiya Ryo e Shizimu Miki per 2-5 giocatori edito da Studio Supernova XV Games. Qua ci troviamo di fronte a un qualcosa che racconta semplicemente degli slice of life ovvero sia degli scorci di vita. Non ci saranno delle vere e proprie avventure, ci sarà una vita quotidiana e noi dovremo affrontare problematiche diciamo così normali. Dico diciamo così perché noi saremo degli enge ovvero sia degli spiriti che nella loro forma principale sono degli animali, potremmo essere il coniglio rispetto ad una volpe oppure potremmo essere il cane, il gatto, insomma abbiamo varie opzioni ma potremmo avere la capacità di trasformarci in umani. Potremmo essere trasformati completamente come se fossimo dei ragazzini, ci trasformiamo sempre in bambini o ragazzini o potremmo mantenere ad esempio le orecchie, le orecchie e la coda, insomma avere un qualcosa di a cavallo fra l'umano e lo spirituale. Ovviamente questo comporterà reazioni diverse in chi ci vede, quindi magari un bambino vedendoci con le orecchie e la coda potrebbe comunque avere un'affezione verso di noi, un'attenzione particolare, mentre un adulto potrebbe spaventarsi, addirittura potrebbe scatenare una violenza per la paura, per l'effetto sorpresa. E dovremmo raccontare che cosa succede in maniera molto rilassata, molto naturale. Ciascuna delle avventure contenute nel manuale ce ne sono tantissime, ma c'è anche tutta la possibilità di creare racconti incredibili all'interno di It's Osuna, quindi avete la mappa di questa cittadina, ci sono spiegati tutti i tipi di negozio, addirittura ci sono quanto costano i dolcetti, se volete entrare in un negozio potete scegliere il costo dei dolcetti, dovrete raccontare problematiche comuni, ad esempio trovate un bambino bordo strada che piange perché vi racconta che ha dimenticato il suo giocattolo a scuola, ormai si sta facendo buio, la scuola potrebbe essere chiusa, ma lui senza giocattolo non riuscirà a dormire. Cosa fate? Tranquillamente potete decidere di tenergli compagnia, di stare con lui, di portarlo da un'altra parte, di ritrovargli un'alternativa, di fargli compagnia durante la notte come se volete voi giocateli, potrete accompagnarlo a scuola, potrete decidere di andare voi a scuola a recuperare il giocattolo particolare, riportarglielo, non importa. Quando concluderete l'ultimo atto a quel punto andrà bene così, insomma non avete magari neanche dovuto affrontare niente di particolare, raccontate solo che cosa può succedere. Ci sono delle piccole prove e avete però dei punti sogno che possono essere distribuiti fra i vari giocatori. Che cosa sono questi punti sogno? Ogni volta che interpretate molto bene un vostro difetto, lo mettete bene in scena oppure tutti gli altri dicono oh wow che carino, insomma ogni volta che avete un po' i brillucciconi agli occhi perché entrate in scena, chiunque può dire punto sogno. Possiamo regalare punti sogno come vogliamo agli altri giocatori e questi punti sogno ci aiuteranno per fare cose, per stringere migliori legami e i legami ci daranno più punti per utilizzare le nostre abilità speciali, per cercare di superare le prove, quindi più ci uniamo fra di noi con le persone che conosciamo, quindi anche i personaggi non giocanti, più ci possiamo legare anche al nostro villaggio, più riusciremo a fare cose ancora più fantastiche. Avremo la possibilità se giochiamo delle campagne, insomma giocheremo tante volte all'interno della stessa città, anche di creare una sorta di miracoli, cambiare in qualche modo lo scenario entro cui giochiamo e possiamo spaziare davvero in tutto l'immaginario del Giappone tradizionale, quindi ci sono le feste con i fuochi d'artificio, potete immaginare le salite al tempio, potete immaginare i tanuki che suonano, questi procioni che suonano i tamburi, insomma questo rosso di sera è piacevolissimo, è un modo molto piacevole, molto rilassato di stare insieme e usciranno delle cose bellissime, cioè vi verrà spontaneo raccontare delle cose belle, quindi a volte raccontare anche il bello, non necessariamente qualcosa di cruento, qualcosa di eroico che vi fa sentire super potente e vi pompa l'ego, qualcosa che vi fa sentire bene con voi e con gli altri rosso di sera. E in prima posizione chiudo con Kids on Bikes, gioco di Jonathan Gilmore, Doug Lewandowski per 2-5 giocatori ed edito da Need Games. In questo gioco impressioneremo i tipici ragazzini in cui film che sono in una cittadina di provincia, quindi girabile tranquillamente con le nostre biciclette che sventano dei piani molto più grossi di loro, che effettivamente nella realtà non potrebbero farcela combattere magari contro l'esercito o sventare minacce aliene, insomma, ma con l'aiuto di alcuni adulti fidati e del loro coraggio e della loro forza di unione riusciranno a risolvere la situazione. Ed è proprio fatto così anche il gioco di ruolo, molto rivolto alla narrazione, a cercare di farvi entrare subito nei personaggi che vorrete recitare. Avete la possibilità di creare delle vostre cittadine o utilizzarne una tra i tantissimi scenari che ci sono all'interno del manuale base e all'interno sviluppare un mistero di fondo. La cosa bella è che la cittadina si muove intorno a voi, ci sono tanti personaggi non giocanti con cui poter interagire, che vi diranno cose, che vi aiuteranno, ci saranno magari dei veri e propri eventi all'interno di questa cittadina a cui voi parteciperete o comunque che percepirete come far vivere dietro di voi alla trama principale. Insomma immaginate proprio uno di questi film in cui c'è una trama principale e voi dovete sgattaiolare, magari scappare da scuola o muovervi di notte scappando dalla finestra di casa. E poi tutto quanto si risolve in semplici tiri di dado per le prove ma che sono già bilanciati in funzione delle vostre caratteristiche. Cioè che voi siate bambino, adolescente o adulto vedete che avete un set di dadi quindi il dado da 12 da 8 nelle varie caratteristiche quindi un adolescente tutto muscolo avrà un dado da 12 per la lotta avrà un dado da 20 per il corpo ma un dado da 4 per la mente viceversa potremo avere una bellezza di plastica adolescente che ha un D8 come mente e un D6 di corpo insomma basta lanciare il dado poliedrico corretto e si va. Nel vostro zaino avete sempre un qualcosa che è interessante per voi insomma che può essere nello zainetto di quel tipo di archetipo e c'è poco da fare da altro più che altro bisogna mettere i vari pregi e i legami con gli altri mettendo anche un segreto. Questo è tutto appannaggio del master che riuscirà in qualche modo a tirare le fila e cercare di lavorare su questi punti deboli del gruppo in modo tale da rendere il tutto ancora più avvincente ci si potrà aiutare si potrà decidere di fare le cose in maniera concitata oppure ragionare molto di più. Perché ho messo Kid Zombies al primo posto? Perché è il primo gioco che mi ha fatto venire voglia proprio di scrivere avventure perché quelli con cui l'ho giocato mi hanno chiesto proprio di giocare ancora e ancora e gli spunti dati nel manuale dell'ambientazione con domande chiave o ispirazioni diciamo per ogni scenario ci sono varie ispirazioni fanno proprio venire voglia di immaginare delle avventure diverse all'interno della stessa cittadina della stessa gruppo di persone che abbiamo modellato intorno a noi veniva voglia proprio di creare delle nuove cose e quindi ho scritto delle altre avventure mi è proprio piaciuto inventare queste storie e giocarle insieme agli altri in alcuni casi il mistero era molto grosso molto fitto era molto più investigativo in altri casi c'era un po' più da menare le mani si può mettere una spruzzata di paranormale non c'è problema si può avere anche qualche amico che ha i poteri come 11 in Stranger Things per darvi l'idea non è quello il problema o anche gli alieni si possono far entrare l'importante è che ci sia sempre tensione e che i giocatori siano sempre i protagonisti siano al centro lo sviluppo di tutto poi lo si scopre insieme come in tutti i giochi di ruolo quindi il master gioca insieme agli altri ha una storia ma che non è necessariamente già scritta sui binari può andare dove si vuole ci sono delle idee da tenere presente mi è piaciuto tenere aperte varie porte e inserire proprio all'interno di questo gioco di queste meccaniche di gioco anche delle scelte di tipo etico abbastanza forti per fare una sorta di finale in cui proprio alla fine bisogna prendere la decisione grossa sul salutare il nostro amico per sempre oppure tenerlo con noi ma per un bene più grande insomma queste scelte qua sono piaciute molto è piaciuto molto al mio gruppo e vi dico è la prima volta che mi è stato proprio chiesto di giocare avventure successive allo stesso titolo e quindi non potevo non premiare Kids on Bikes al primo posto come vi dicevo poi nell'introduzione vi segnalo un titolo anche per i più piccoli ovvero sia questo Piccoli Detective di Mostri il libro base di Patricia De Blas e Alvaro Corsen intitolato Nel Buio in questo caso io ci ho giocato con il mio bimbo a partire dai tre anni e mezzo quindi vi assicuro che è sponsorizzato diciamo con un tre più come età bisogna essere almeno in due giocatori ma sicuramente si riesce a fare in cosa consiste questo gioco metterete i piccoli chiaramente ci sono tre livelli di regolamento sempre più articolati ma arriviamo a un regolamento per quelli grandi in cui si lanciano semplicemente un set di tre dati da sei si deve prendere tipo il valore medio o il valore più alto più basso a seconda di vantaggi e svantaggi e niente di trascendente semplicemente c'è la possibilità di non fare andare a buon fine una delle opzioni e potete inserire gli indizi quindi devono trovare indizi ma sostanzialmente voi prendete questi bimbi e gli dite che sono l'agenzia di investigazione per i mostri li mettete all'interno di una casa sono stati chiamati per indagare su un qualcosa del mostro e voi cosa avete fatto come master prima di iniziare l'avventura avete scelto uno dei mostri presenti all'interno del mostrario non so se si può chiamare così ogni mostro ha la sua faccia diciamo le sue caratteristiche i suoi pro e contro cose che piacciono al mostro cose che fanno scappare il mostro che lo fanno arrabbiare e caratteristiche quindi voi descriverete la casa con tutti questi indizi da recuperare come dicevo se sono piccoli li mettete abbastanza palesi loro riusciranno in base agli indizi a cercare di capire qual è il mostro ma soprattutto la cosa carina è che ciascuno dei mostri avrà la sua improntina qua sopra vedete questa è l'improntina caratteristica del mostro della finestra abbiamo un'impronta diversa del mostro dietro le porte quindi a un certo punto faccio trovare fisicamente questa improntina dico ah sei andato proprio dentro all'armadio bravo hai capito che potrebbe essere l'armadio ecco l'improntina e loro poi usano questo libro come se fosse il loro manuale quindi cercheranno l'impronta cercheranno di confrontare se le caratteristiche degli indizi trovati sono coerenti e a quel punto in funzione di quello che al mostro piace al mostro non piace decideranno se catturare il mostro farlo scappare magari parlargli perché il mostro è solo triste fa i dispetti perché voleva trovare un amico insomma decidete voi quel mostro lì quale background avesse e loro decideranno come farlo avete degli strumenti fantastici da dare a loro disposizione quindi dalla rete super a uno specchio particolare a una pistolettona che guarda che fa illuminare il buio insomma ci sono varie cose fantastiche per aiutare la loro immaginazione ovviamente se il bimbo è piccolo vi dico con tre anni e mezzo strutturiamo delle sessioni chiamiamole così da dieci massimo quindici minuti ma coinvolgendo anche amici cuginetti eccetera tutti riescono a giocare non c'è bisogno di spiegare molto come regola all'inizio del gioco proprio catapultateli in questo mondo in cui loro sono i detective e funzioneranno funziona bene riescono a usare molto bene il libro chiaramente quelli piccoli non sanno leggere ma non importa non potendo leggere gli darete voi la possibilità di cercare l'improntina e direte voi che cosa piace cosa non piace quindi chiederete proprio ma volete catturarlo volete spaventarlo volete farlo arrabbiare insomma e i bambini vi stupiranno riescono a quell'età lì diciamo con i quattro anni anche a creare dei piani tipo ah tu mettiti in mezzo alla stanza e butta per terra la polvere così lui arriverà per mangiarla io da dietro gli lancio cioè vi stupiranno a me ha stupito e ha colpito cioè avevo il dubbio tre più non lo so funziona davvero consigliato bene con questo direi che vi ringrazio per l'attenzione spero che questa classifica vi sia piaciuta come vi ho detto all'inizio i numeri sono abbastanza corposi dal mio punto di vista ma chiaramente non corposi perché è davvero appassionato del mondo dei giochi di ruolo da tanti anni io mi sono affacciato pochi anni fa piano piano ne sto masticando il più possibile sto cercando di assaggiare il più possibile generi stili diversi regolamenti diversi quindi cercherò di essere sempre più pronto anzi se avete qualcosa da segnalarmi che secondo voi devo giocare assolutamente segnatemelo qua sotto sarò ben contento di guardare approfitto per segnalarvi che ci sono minuti di tutto quello di cui ho parlato quindi cercate pure sul mio canale non dimenticate di guardare qua in descrizione perché ci sono dei link ottimi per avere degli sconti voi codici sconto e sostenere il progetto recensioni minute e inoltre non dimenticate di iscrivervi anche al mio canale telegram e instagram perché passano un sacco di cose che qua su youtube non passano grazie davvero ancora per l'attenzione e lanciamoci in questo 2024 ciao e alla prossima